Mi chiamo Franco Ferreri. Dopo anni di esperienza in azienda, ho fondato SAPI, operante in due settori chiave, la tutela dell'ambiente ed il mercato dell'informatica. Produciamo cartucce laser recuperando cartucce esauste attraverso cooperative sociali, creando posti di lavoro per persone in difficoltà, contribuendo a progetti di solidarietà e riducendo i rifiuti da smaltire. La nostra mission è produrre risultati economici nel rispetto dell'ambiente e della soddisfazione del consumatore, offrendo prodotti a basso impatto ambientale ma di elevata qualità e di costo inferiore al nuovo. SAPI crea valore in modo diverso, responsabile verso le persone e il mondo che la circonda. L'intero processo produttivo si risolve all'interno per avere il totale controllo della qualità e il nostro motto è vogliamo produrre solo ciò che sappiamo fare. Operiamo in un ambiente di lavoro caratterizzato da un clima organizzativo basato su trasparenza e fiducia. Le persone usufruiscono di un processo di formazione continuo, sia interno che esterno, per mantenere alta la motivazione, offrendo un'adeguata crescita professionale. In conclusione, con la qualità e la garanzia delle nostre cartucce, la parola ricostruito ritrova l'orgoglio di proporsi non come sinonimo di prodotto di scarsa qualità e a basso costo, ma come espressione di una scelta possibile per una vita eticamente corretta.